Urlano, vorrebbero catapultarsi sul red carpet del Giffoni Film Festival, invece lo circondano e si fanno strada a spintoni pur di essere in prima fila. Merito di Roberto Farnesi, il bello della fiction italiana che saluta le fan insieme a Emanuela Tittocchia e Katie Sanberts. Roberto firma migliaia di autografi, mentre i fotografi lo chiamano a gran voce. Poi si toglie gli occhiali, mostrando il volto fascinoso. Grazie a tutti.